Bello a tutti, benvenuti in questa nuova vizio a video! Sdrogo! Oggi io sono SpirosigD e oggi con i miei cacciatori di zombie di professione Antimatter che non sentite e Rushman che non sentite andremo a fare una challenge che è il primo episodio della serie non irregolare del Ora si sopravvive Che cosa consiste questa challenge che è come primo episodio? Una challenge abbastanza elementare e basic camperare come Dick dannatissimi cani più round possibili con nel bunker di GorothCroby E come al solito, visto che sono un coglione devo mettere qualcosa durante durante l'editing di questo video Allora, una cosa che mi sono scordato di dirvi è che le challenge ce le potete dare voi con l'hashtag nei commenti Ora si sopravvive con i requisiti della sfida E seconda cosa questo video sarà ben tagliato perché dura 70 minuti 70 minuti di video non credo che qualcuno li sopporti quindi vi taglio tutto il pezzo preparativo a parte una clip che vi metterò tra poco e noi ci vediamo hai trovato hai trovato hai trovato no 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 cosa hai trovato? no 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 ho riconosciuto il suono no a a cosa cosa aspetta cosa che è successo dimmi no vabbè vaffaculo io me ne vado no vaffaculo 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 mostra l'altra arma mostra l'altra arma mostra l'altra arma che penso che sia porco ma porco dio ma dio tumore figlio di puttano esame le trefuzioni no no non il telefono non il telefono porca miseriaccia è la prima volta che spie sento un insulto di spie che non sia una bestemmia più pro che culo però ora devo dirvi due cose la prima ammirate la mia bella pistola e la seconda dio ma perché cazzo l'audio non deve essere sincronizzato con la cazzo di clip perché ma da qua ma da quando questi bastardi entrano nel bunker scusatemi non me ricordavo questa cosa dov'è quell'inutile vesper quando serve perché il vesper è una merda rego ho già finito le oh porca ale c'è uno zombie elettrico ale ale sono morto troppi zombie elettrici credimi è stata tutta colpa del drago come ma te scusatemi allora dobbiamo sopravvivere dobbiamo essere negri ma tanto negri di un segreto ti consegno dio è porco ma dio è porco vabbè i muri, le porte, le macchine, perché sono tutti contro di me e il joganon, e ti dico no è rivoltante, quindi mi farà bene sono scorte le munizioni, lo capisci, lo senti questo son sono senza armi, lo capisci man, lo capisci, siamo fottuti si che c'è? che c'è? non è che qui ti ho robe strane era inevitabile che finissi le munizioni, un bel gioco giura poco eh ma porca di quella i russi combattono anche senza no, no, no ma dico, c'è, c'è, se devi durare così tanto round posso ma tu marco com'è che... ma l'ho sentito, ma come mai? eh, non dobbiamo ucciderlo ma l'ho sentito 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 qui è per che ha trovato il ppsh appena è stato rilasciato ppsh oh cazzo no 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 ce l'ho con noi ce l'ho con noi oh merda 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 all'attacco quanto crepo Ale si vale rispingete gli invasori rispingete gli invasori ho tirato io la trappola perchè io le ho finite le emmo oh cazzo eh vabbè mi sa che siamo morti quindi Simo se dovessi se dovesse finire che sono morto devo dirti una cosa Fabri è tuo figlio Fabri devo dirti una cosa se la cosa dovessi finire male devo dirti una cosa Simo è tuo padre ce l'hai con me? vallano fatti sotto eh ma dovevo ricaricare il prossimo coglione ho dolore per tutti potevo strapparti via no 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 la trappola si sta ricaricando merda no eh ma se ci passi oh merda guardate avete l'ordine di sparare a vista oh mio dio lo dici solo perché sono un russo tu sapresti fare una mappa di Chicago oh mio dio questo è l'unico gioco in cui sento Chicago pronunciata bene e non la sua pronuncia del cazzo Chicago oh merda oh merda oh merda ma perché non ci hanno messo lo spot della cazza qua sotto no 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 non ti devo ricaricare che cazzo devo implorare per avere più colpi ho preso i doppi punti raga mi son sacrificato almeno No vanti no Oh merda oh merda 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 Cazzo si Minchia timo io sto correndo No 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 go no 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 nolè c'è la frontina adesso simo si l'inferno è un posto dove ci meritiamo di stare simo c'è una zombie e raga c'è una zombie Ok. Non puoi morire. Non adesso. Riloddo. Via, 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 via. Non sono etero per il momento. Fino a questo momento penso di essere etero. Tranquillo. Aiuti seguo per giustizziarti davanti alla giurisdizione sovietica. Magari quando uccidizzo mi fanno danno esplosivo. Ok. Anche i più esperti possono sbagliare di tanto in tanto. Cosa? Cosa? L'abbiamo scettato. Mi sto avvicinando. Ragazzi. Vedi che hanno reso Gorod una mappa migliore. Praticamente ora puoi rianimare col conto di Sifredo. Sto sparando tutto quello che sta avendo. Cazzo. Cazzo. Cos'è che è successo? E così si conclude la nostra eroeca di resistenza Stalingrado. Signori se vi è piaciuto questo video consigliateci altre sfide nei commenti. Ah e un'ultima cosa. Se il microfono ha delle interferenze non ci posso fare nulla ma l'ho distrutto. Ma voi intanto iscrivetevi, mettete un like e noi ci vediamo venerdì. Bye.